Allora, buongiorno a tutti, eccoci al terzo video della realizzazione della nostra videoteca in C Sharp lato visuale e nel secondo video ci siamo lasciati, ma intanto in esecuzione il programma, ci siamo lasciati praticamente con una situazione in cui veniva fatta una ricerca quindi andiamo sul titolo, andiamo a scrivere ad esempio gli iniziali del mio titolo, vado a fare una ricerca come Blu-ray nel listbox mi va a caricare praticamente tutti i film col titolo che inizia come l'elemento della ricerca quindi volare, volo. Quando vado a selezionare volare avevamo visto che lui tirava fuori in qualche modo il dettaglio del film con le azioni che posso svolgere praticamente su questo film, quindi eliminare, noleggiare, restituire e così via Evidentemente queste cose devono, questi pulsanti più che queste cose, devono essere legati alla situazione che ho di quel film cioè se il film in questo caso è disponibile in videoteca perché non è stato noleggiato non posso sicuramente restituirlo posso magari noleggiarlo sì, eliminarlo sì, ma non restituirlo Un'altra cosa però prima di iniziare a lavorare sui button è quella di verificare un bug che c'è praticamente se vado sulla parte file e faccio carica e questa carica sarà poi legata all'implementazione da file di test e quant'altro che succede che facendo nuovamente la ricerca in questo caso io ho aggiunto degli elementi con carica Quando faccio ricerca vedete che gli elementi mi vengono accodati al mio listbox Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo evitare queste repliche, devo sostituire completamente il mio listbox, non aggiungere gli elementi Quindi detto questo lavoriamo subito sul button ricerca in modo tale che è, doppio clic su ricerca, prima che inizi praticamente a popolare Selezionare nuovamente il listbox quando io gli do l'ok su conferma, il mio listbox inserisci .items in qualche modo si deve svuotare .clear In questo caso lo proviamo subito al volo, se io vado a scrivere vol e vado su ricerca, sì che l'ha trovato, andiamo su file carica, rifaccio la ricerca e vedete che non mi sta più duplicando gli elementi A questo punto pensiamo sulla parte button, seleziono volare e volare non è stato noleggiato, mentre volare 2 è stato noleggiato Quindi l'azione ovviamente dei button sarà in qualche modo differente Dove vado a lavorare su questo aspetto? Beh, lo vado a lavorare sicuramente quando ho la variazione dell'indice del mio listbox, quindi nel metodo associato E dovrò andare a verificare in qualche modo se la parte noleggio, noleggiato in questo caso è checked oppure non è checked Quindi in questo caso è noleggiato e checked sicuramente non posso fare né elimina né noleggia, questi due saranno in qualche modo disabilitati Ma andiamo a scrivere il codice che è la cosa più utile, quindi andiamo a cercare sul form l'azione, dicevo sul listbox inserisci Quindi andiamo a cercare l'azione, quindi sugli eventi cerchiamo, già selezionato qua, listbox in selected index changed Quindi doppio clic, sto entrando nel metodo, ecco nel metodo qua cosa devo fare? Ci sarà qua una parte dove vedete che il mio ricerca a noleggio è checked oppure non è checked Quindi se è checked vuol dire che il film è fuori a noleggio Quindi in questo caso cosa devo fare? Devo avere abilitato solo il tasto restituisci Quindi per abilitarlo andiamo a cercare il button inserisci restituisci click Ecco qua questo, scusate questo è il metodo ma questo è il mio button, il mio elementino Quindi in questo caso metto ad esempio enable a true Enable uguale true E quindi questo lo abilita Ma allo stesso modo, in questa stessa situazione, gli altri button che sono ricerca, noleggia Punto enable Lo devo mettere a false E allo stesso modo l'altro button che si chiama ricerca elimina Cioè per cancellare il film della videoteca lo devo in qualche modo disabilitare Quindi ancora false Dopodiché nel caso contrario in cui io il film se lo fuori a noleggio Allora posso, no è false, quindi non è fuori a noleggio Allora posso lavorare sempre sui tre pulsanti Ctrl C me li copio qua in basso Ma faccio delle operazioni contrarie Quindi restituisci sicuramente sarà false Perché è dentro, è dentro la videoteca Noleggia sarà invece true Lo posso fare uscire E invece il mio elimina sarà ancora true Vediamo subito i risultati di questo Se funziona, quindi facciamo subito carica in questo caso Così ho due elementi con delle situazioni diverse Vol, blu-ray, ricerca, volare Ok? Vedete che volare in questo caso non è stato noleggiato Di conseguenza io lo posso noleggiare o lo posso eliminare Ma sicuramente non lo posso restituire Perché non l'ho mai preso in consegna Viceversa se andiamo su volare 2 Beh, il volare 2 è noleggiato Allora in questo caso non lo posso rinoleggiare il pulsante disabilitato Non lo posso eliminare perché ce l'ho fuori dalla videoteca Sicuramente lo posso restituire Quindi supponiamo adesso di restituire volare 2 Quindi vediamo se il metodo funziona Lui ci restituisce, ci ringrazia della restituzione Riandiamo a fare la ricerca volare Sempre in blu-ray Volare 2 In questo caso vedete che non è più noleggiato Di conseguenza lo posso eliminare o noleggiare Quindi supponiamo di noleggiarlo Così come, buona visione Supponiamo ancora di noleggiare anche il secondo Volare Non noleggiamo Ok, se adesso vado a cercare nella mia ricerca Come è la situazione di questi due film Vedete che sia volare che volare 2 sono noleggiati Supponiamo di voler restituire tutti e due Quindi volare 2 lo restituiamo Vol Volare normale lo restituiamo E a questo punto in due film Facciamo ovviamente la ricerca Sono, vedete, sono tutti e due in videoteca Li voglio eliminare Ok, volare 2 lo elimino Mi chiede conferma Direi di sì Film rimosso dalla videoteca Adesso facciamo la ricerca Evidentemente non c'è più volare 2 Eliminiamo anche volare Quindi elimina volare Lo cancelliamo Film rimosso Adesso una ricerca di volare Ci dice non c'è più nessun film con quel titolo Direi che la nostra parte Diciamo legata alla ricerca Va bene Possiamo adesso andare avanti Il nostro progetto E interessarci invece alla parte inserisci La parte inserisci è completamente vuota Cosa voglio che succeda? Beh, sicuramente una nuova tab page Inserisci mi permetterà di inserire Tutti gli elementi del mio film Sto inserendo un nuovo titolo Di conseguenza Andiamo a costruirci praticamente La parte della maschera Quindi supponiamo di andare a prendere Una label di titolo Questa label La andiamo a posizionare qua su Supponiamo di cambiare qualcosa Andiamo a cercare ad esempio Nelle proprietà La proprietà Ah, possiamo già Sì, modificare intanto il testo Visto che ce l'abbiamo qua sotto E qua possiamo mettere in maiuscolo Ad esempio Dati 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 Film Che vuoi inserire Ok Che facciamo? Andiamo a cercare Intanto il name Questa qua Sarà praticamente Una label Di che cosa? Di una tab page Che si chiama Inserisci Ho scritto tutto il maiuscolo Scusate Label Abbiamo detto Tab page Che si chiama Inserisci E questo supponiamo che sia Cosa ne sono la label di Intestazione Intestazione Ok? Quindi questa label Stavo dicendo Proprietà doc Ce la mettiamo un po' Un po' più carina Quindi supponiamo di averla Diciamo in alto Nella parte su E supponiamo che Che occupi ad esempio Tutta la riga Gli diamo anche una dimensione E quant'altro Poi vado più veloce Magari nel video Per queste cose qua Quindi per dare Per fare in modo che Praticamente Vada su più linee Andiamo a cercare Praticamente L'auto size Lo mettiamo False In modo tale che lui Andrà a occupare Vedete Tutta la riga utile Posso anche ingrandirla In questo caso Andiamo a cercare Sul font Diamo È un titolo In testazione Quindi diamo magari Un font Pari a 14 punti E a questo punto Tiriamo su Tiriamo giù La larghezza Praticamente Della mia label E andiamo A centrare anche il test Quindi andiamo a cercare La proprietà Test align E gli mettiamo Praticamente Un allineamento Centrato Sempre in alto E quindi Sarà praticamente La parte Di presentazione Diamogli magari Anche un colore Quindi Supponiamo un colore Di for color Quindi For color Gli diamo un colore Non lo so Andiamo più Personalizzato E scegliamo un colore Magari Blue school Ok Anche se vogliamo In grassetto Però su tutte cose Poi si possono ritoccare Solo la parte grafica Detto questo Detto questo Cosa dovrà comparire Beh sicuramente Ci serviranno Una label Per quanto riguarda Ad esempio Il titolo E adesso Li andiamo a inserire E sicuramente Dobbiamo inserire Quindi dobbiamo mettere Anche dei textbox In cui andare a prendere Dei dati Textbox E i textbox Li andiamo a mettere Qua a fianco Allora Che succede Io direi Diamogli Magari una personalizzazione A livello Magari Anche di dimensione Appena più grande Quindi andiamo a cercarci Un font Magari non grande Conto l'altro Ma facciamo un 12 Dovrebbe andar bene Andiamo a sistemarci Anche un po' L'allineamento L'allineamento In modo tale Che il testo Della label Sia pari al testo Accentrato Diamogli un po' di spazio In più Per quanto riguarda Il titolo E iniziamo a scrivere Il nome Praticamente Di questi elementi Anzi Io direi Andiamo a modificare Prima i nomi Poi li copiamo Anche se Poi mi Dovrò Fare un copia in colla Però Allora Label Label di che cosa? Di un tab page Che si chiama Inserisci Inserisci E questo sarà Il mio titolo Quindi stiamo dando Dei nomi Dei nomi sensati Questo me lo copio CTRL C Lo vado a mettere Praticamente nel testbox Come name Perché sarà Praticamente La stessa cosa Ma invece Di una label Sarà un Textbox I X B Ok Cosa facciamo ancora? Andiamo sulla label 1 E finalmente Prima di dare la dimensione giusta Gli diamo magari come test Da parte Di Do Bene Una volta che ho creato Il primo elemento Lo devo CTRL C CTRL V Ricopiare Perché ci sarà Un qualcosa legato Ad esempio Il regista Lo metto qua CTRL V Ancora Sarà qualcosa legato Alla durata E lo allineo Ci sarà qualcosa Legato A CTRL V All'attore principale E lo posso mettere qua E in più Ci sarà qualcosa Legato al fatto Che sia Un DVD Un Blu-ray Ma questo è facile Come abbiamo già visto Farlo con un Radio Button Dove mettiamo qua Il primo elemento CTRL C CTRL V E qua Ad esempio Il secondo elemento Poi lo personalizziamo Dandone i nomi I nomi decenni Ovviamente Anche questi due Li seleziono Magari contemporaneamente Li posso dare Una Possiamo dargli Una dimensione A parte Il colore Font Abbiamo detto Di 12 Così Sono un po' Uniformi E poi ci scriviamo Allora Questo è il titolo Del film Facciamolo Un po' più grande E magari Facciamo in modo Che il titolo Sia messo Al centro Ok A questo punto Abbiamo da fare Qua L'autore Ok O meglio Qua era Il regista Di conseguenza Subito Proprietà Text Sarà Il mio Regista E di conseguenza Questo textbox Avrà Praticamente Non proprietà name Ma proprietà text Ma Lo posso fare Così Vado Tut Titolo CTRL C Me lo copio Vado sul regista CTRL V E qua Invece di Titolo Gli do Ad esempio Regista Stessa cosa Posso fare Ce l'ho ancora Memoria Su questo In basso Che sarà Magari L'attore Quindi Il protagonista CTRL V Il botto Di titolo Mettiamo Protagonista E Per quanto riguarda Ancora Questa Che sarà La durata Questo Lo posso fare Ancora Più Piccolo CTRL V Sarà Invece Di titolo Durata Quindi La durata Sarà In minuti Qua Lo metto Magari Un po' Più piccolo Me lo posso Spostare Andiamo A modificare Ancora Gli altri Name Questo qua Sarà Legato E una Label Prendo Quella Di titolo CTRL C Vado Sulla Label Regista E scriverò CTRL V Regista Su Questo Protagonista CTRL V Protagonista Su Questa Parte Qua Sarà Name CTRL V La durata Ok Mi manca Ancora Da indicare Qua Il Protagonista Quindi Proprietà Text E' la parte Un po' Più lunga E noiosa Ma Sarà Il mio Protagonista E invece Qua sarà La durata In minuti Quindi Proprietà Text Sarà Durata Aperta Tonda Minuti Ok E Ci permette A questo punto Di dimensionarlo Decentamente Allora Diciamo Che Mi mancano A questo punto Il radio button Diamo Intanto Un Vabbè Il text Ce l'ho qua Sotto mano Questo sarà DVD Ad esempio E questo Invece Sarà Blu-ray Blu-ray Ok E Come nome Perché mi servirà Poi capire Anche il nome Questo qua Sarà Un radio button Radio button Abbiamo detto Tab page Che si chiama Inserisci E questo sarà DVD Mentre Quindi lo posso Anche copiare Control-C Andare su Secondo radio button Control-V E questo sarà Lo posso chiamare Anche Blu-ray Mettiamolo per intero Ok Questa è un po' La situazione Che ho Per fare L'inserimento Ovviamente Poi per Quindi protagonista Vedete che È da allineare Un po' più A destra Tra l'altro Ho messo Due A Quindi andiamo Subito a Modificare La parte Text Ok Quello che dicevo L'azione Praticamente Di quello che scrivo Qua dentro Sarà poi Legata a un pulsante Quindi andiamo Subito ad inserire Un button Che Qua in basso Sarà Un button Ad esempio Inserisci Control-C Control-V Avrò un button Che si chiama Magari Cancella Per svuotare Tutti i capi Quindi È allineato Direi bene Button 1 Andiamo subito A dargli Come text Inserisci Carica Quello che volete E gli diamo Anche un name Quindi questo Sarà un button Tab page L'abbiamo detto Inserisci E questo Sarà ancora Inserisci Mi copio Questo name Control-C Perché vado qua E Vado a scrivere Doppio click Un button Che non è Inserisci Ma sarà Ad esempio Cancella Andiamo a mettere La proprietà text Allora Abbiamo detto Proprietà text Che non sarà Button Ma sarà Bene Direi che ci siamo A questo punto Iniziamo a capire Quale sarà l'azione Del mio Del mio pulsante Inserisci Ok Che è quello Anche più complesso Quindi ce ne abbiamo Subito il problema Inserisci Dovrà andare A prendere Tutti i dati Che io ho messo qua Attenzione Non ho messo Appositamente Il discorso Di Ok Non ho messo Appositamente Il discorso Di noleggio Non noleggio Perché quando io Inserisco un film È normale Che ce l'abbia In carico In videoteca Non è possibile Che io appena inserito Ce l'abbia già fuori Ok Di conseguenza Poi sarà Un altro processo Di noleggio E si farà successivamente Quindi non ho messo Il radio button O il check box Su noleggio Non noleggio Un salto inserisci Quindi dicevo Che cosa farà Dovrà andare Intanto A caricare il dato Ma per caricare il dato Dovremo anche verificare Che lui Abbia inserito Tutti i campi Una cosa ad esempio Che posso fare E fare in modo Che il mio dvd Sia ad esempio La scelta Di default Quindi quando vado A fare qua Sulle proprietà Un controllo Sul check ed Almeno uno dei due Voglio che sia true Perché magari L'utente Ok Non lo scrive Però Se lo dimentica Però a me Va in cresce il programma Lavoriamo a questo punto Su inserisci Allora Inserisci Cosa deve fare Qualsiasa azione Ripeto Sarà subordinata Il fatto che io Abbiamo riempito I campi Quindi sicuramente Ci sarà un if Dove andrò a controllare Che tutti i textbox Ad iniziare Dal textbox Inserisci Dal textbox Titolo Eccolo qua Punto text Ovviamente Sia in qualche modo Diverso da vuoto E contemporaneamente Questo fatto Lo devo fare Su tutti i textbox Inserisci Quindi textbox Inserisci Regista Ok Punto text Dovrà essere A sua volta Diverso da vuoto Così come Contemporaneamente Il mio txb Inserisci Protagonista Punto text Sia Diverso Da vuoto E contemporaneamente Anche la durata Lo rendo Tutti i campi Obbligatori Ok Per semplicità Quindi Andiamo a vedere Un txb Inserisci Durata Punto text Lo voglio Ancora Diverso Da vuoto Degli altri Non devo fare Nessun Nessun controllo Ne ho messo 4 Quindi direi Che se questi Sono tutti Diversi Cioè Non ha Lasciato niente In bianco Vado avanti Altrimenti Else Beh Gli posso far Comparire un message box In questo caso Dovrei fare Tanti else In cascata Per capire Quale di questi È stato lasciato In bianco Però Facciamo le cose Un po' più semplici Do un messaggio Dico attenzione Dimenticato qualche campo Poi un controllo Avendo più tempo Altro si può fare Mirato a ciascuno Dei text box Quindi in questo caso Farò un message box Punto show Dove dico Non hai Completato Tutti I campi Per Inserimento Virgolette Qua Inserimento Errato Posso fare In modo che ci sia Un message box Button Punto ok Non ho bisogno Di altre cose E gli posso dare Un message box Icon Ad esempio Di un errore Ok Se invece La Diciamo Il popolamento Di tutti i campi È andato a buon fine Beh a questo punto Devo iniziare A mettermi A lavorare Quindi in questo caso Cosa faccio Andiamo a cercare Andiamo a definirci Una variabile Di tipo Bull Questa bull La chiamiamo Tipo Perché sappiamo Che il mio tipo Da true o false Cioè devo impostarlo True o false Ma glielo posso passare Magari attraverso Una variabile Perché poi Devo usare Il costruttore Quindi Tipo uguale false Adesso Andiamo a vedere Intanto se Il mio DVD È checkered Così diamo Per tipo Una personalizzazione Un valore giusto Quindi If Il checkered Lo facciamo solo Ad esempio Sul radio button Radio button DVD Diciamo che Se DVD È checkered Allora Che succede? Beh Io farò In modo Che la mia Variabile Sia true Quindi tipo Sia uguale Non mi preoccupo Dell'else Perché se Non è DVD Checked Sarà per forza Blu-ray Checked E a quel punto La variabile La metterò Ok Questo if Non ha Nessun else Posso invece A questo punto Andare Stanziare Un nuovo oggetto Cioè Vado Sulla mia Classe Sulla mia Lista Films E cosa faccio? Devo Semplicemente Aggiungere Un elemento Con una nuova Istanza Della mia Classe Add Add New Che cosa? New Abbiamo detto Film E qua Devo prendere Quindi il costruttore Film Va benissimo Di passo Di passo il primo elemento Non sto usando il costruttore vuoto Ma il costruttore parametrico Quindi vuole ID Film Ma vi ricordo che questo è Il codice identificativo Di una variabile Diciamo Statica Quindi una variabile Della classe E non Dell'istanza E quindi Di passo Film Punto ID Film Ok Poi andiamo a mettere Tutte le altre cose Il titolo Da dove lo prende? Beh lo prenderà Dal mio textbox Inserisci Titolo Virgola Il mio XB Questa vuole il regista Quindi vado a prendere il regista Virgola Qua prende la durata Vi ricordo però La durata è un intero Quindi Assolutamente Io dovrò convertirlo Quindi posso fare Direttamente Un Convert To int 32 Di che cosa Del mio TXB Ah qua vuole delle stringhe Devo mettere 2 stringhe su tutti Adesso ci arriviamo Del mio TXB Abbiamo detto Durata Ok Quindi qua lo aggiungiamo già Punto Text E quindi questo lo converte Quindi regista Ancora Punto Text Titolo Punto Text Ok Poi Continuiamo con il nostro Costruttore Abbiamo Virgola Adesso Il protagonista Quindi è ancora una stringa Quindi TX Protagonista Punto Text Virgola Allora qua vuole il tipo Ok Passiamogli a questo punto Il tipo Che è un booleano Mentre qua c'è la parte Noleggio Che è siccome Un nuovo inserimento Sare sempre Forse E quindi me la sbrigo In maniera molto semplice Doppia parentistonda Perché devo chiudere Anche il costruttore E qua mi sta Aggiungendo Praticamente Il mio Il mio Elemento Attenzione Dopo che carico Tutti i dati Una cosa Diciamo importante Che posso fare Ad esempio E svuotare Tutto Quanto Quindi fare in modo Che I miei TXB Titolo Sia Sia Vuoto Volendo Gli posso dare Anche Il Il Fogo Ok E' quello che Normalmente Succede Quando si fa Diciamo Un inserimento Si fa sul primo Cano Poi abbiamo TXB Abbiamo detto Titolo Buttiamo giù Protagonista Punto Clear Poi Andiamo TXB Durata Punto Clear Poi andiamo A fare Il mio TXB Protagonista Punto Clear Ok E poi Cosa posso fare Posso andare Posso andare A settare Dvd Perché se lui Ha mezzo Blu-ray Io vado a Settare Dvd Di default Ma volendo Lo posso lasciare Come prima Vabbè Questo poco Importa Comunque Nel caso Vado Sul radio Button Radio Button Inserisci Dvd Punto Checked Uguale 2 Ok Diciamo Che Ah qua Scusate Magari Sì Diciamo Che queste Stesse Operazioni Che intanto Posso pensare Anche di copiarmele Contro il C Mi serviranno Poi per la Cancellazione Detto Questo Posso anche Avvisare Del buona Riuscita Delle operazioni Dire di sì Quindi Visto che Niente Mi vado a copiare Questo message box Questo message box Qua sto besticendo Col mouse Allora Su questo message box Gli dirò Control V Ok Inserimento Riuscito Hai inserito Il nuovo film Qualcosa di questo tipo Quindi Hai inserito Il nuovo Film Inserimento Corretto E qua Il messaggio Ok Mi va bene Ma magari Come icona Gli mettiamo Una Information Non so Information Va benissimo Doppio clic Ok Direi che ci siamo Facciamo ancora L'altro metro Così riproviamo Tutti e due Andiamo su Cancella Cancella Cosa deve fare Stavo dicendo Prima Andare a prendere Diciamo Tutte le istruzioni Che vanno a svuotare Ridare il focus Agli elementi Che ho qua dentro Se ne ho ne ho dimenticato E possiamo con F5 Andare a provare A questo punto Il programma Ci muoviamo Control Tab Su inserisci Supponiamo di Allora Intanto se do Cancella Che fa Mi riporta il focus Perfetto Se c'era Blu-ray E ho messo Cancella Se lo riporta A DVD Se metto delle cose A caso Mi muovo Con la tabulazione Andiamo A fare Cancella Mi svuota tutto Quindi sembra che Stia funzionando A questo punto Verifichiamo Inserisci Allora Io metto Ad esempio Volare 3 Regista Ancora Fabrizio Durate ai minuti 75 Direi che bastano Protagonista E che so Topolino Ok Andiamo a questo punto Ad inserire Ad esempio Un Blu-ray Diamo Inserisci Ha inserito Il nuovo film I campi si svuotano Mi ritorna Praticamente Il default Su DVD E praticamente Il mio titolo Sembra che sia stato inserito Per capire Se è stato inserito Andiamo sulla parte Di ricerca Quindi supponiamo Ancora Di fare Un volare Come ricerca Dei Blu-ray Trovo Volare 2 E volare 3 Se vado a fare Il caricamento Come abbiamo visto prima Faccio ricerca Ottengo Volare 3 Volare 2 E volare Su volare 3 Che è l'ultimo Inserito Vedete che c'è Fabrizio Topolino Tipo Blu-ray Non è stato noleggiato E qua il gioco Riprende Nel senso che io Volare 3 Lo voglio subito Noleggiare Appena arrivato Perfetto Eccoci qua Andiamo a cercare Cosa è successo Su volare Volare 3 A questo punto Me lo trovo Col flag su Noleggiato E quindi Diciamo che La parte legata All'inserimento In qualche modo Sta funzionando Possiamo In questo caso Lasciare un attimo Così le cose E dare magari dei colori Ma lo faremo successivamente Andiamo a vedere Intanto Cosa possiamo realizzare Stiamo quasi A 30 minuti Di registrazione Ma vi faccio vedere Magari E poi ve lo faccio Trovare pronto Nella quarta lezione Cosa fare Aggiungere Un tab qua Una tab page Quindi cosa facciamo Selezioniamo Il tab control Vedete qua Andiamo a vedere Sulle tab page raccolta Sulle tab page raccolta Ci sono i tre puntini Che ci portano Il menu contestuale Dove ci sono Praticamente Tutte le mie Tab page Cosa devo fare In questo caso Beh Devo aggiungere Una tab page Non sarà Tab page 1 Ma Se selezioniamo In ordine alfabetico Gli andiamo a mettere Come testo Ad esempio Qua facciamo Una parte Visualizza Visualizza E gli diamo Come nome Praticamente Il mio Tab page Visualizza Mi sembra che Gli altri nomi Siano stati dati Qua Sì Tab page Inserisci Qua L'ho scritto Maiuscolo Allora Tab page Ok Così Gli diamo Lo stesso nome Cosa avrà All'interno Questo tab page Allora Sicuramente Quindi andiamo Subito Su visualizza E ci togliamo Il problema Quindi qua Dovrà avere Una label Che ci da Lo scrivo bene Ma almeno Vi metto Gli elementi Avrà una label Qua Che ci scriverà Come testo Il mio Scegli Il Criterio Di Quattro Sazione Perché vi ricordo Che qua Attraverso Dei radio button Dei radio button Io Metterò Radio button 1 Control C Control V Radio button 2 E Control V Radio button 3 Io posso fare Una ricerca Mettiamo Giusto il testo Una ricerca Per tutti i film Tutti i film Oppure Posso fare Una ricerca Per regista Questa è la consegna Che ce lo dice Non l'abbiamo vista Ma Regista E invece qua Sarà una ricerca Per protagonista Attenzione Cosa cambia Protagonista Tra questi Tra queste tre situazioni Beh Cambia semplicemente Che quando io Ho Da fare una ricerca Per regista Protagonista Devo inserire qualcosa Se faccio una ricerca Per tutti i film A quel punto Non ho bisogno Di inserire niente Quindi qua Ci sarà bisogno Probabilmente Di un text box Text box Che avrà Magari comparirà Qua sotto Perché è questa parte Diciamo che ci serve Ok Dove io vado a inserire Il titolo regista O il titolo del protagonista Sicuramente Qua avrò bisogno Di Dei button Un button Per andare a fare La parte di Visualizza Quindi qua sarà Visualizza E invece Torniamo Con il focus Qua Control C Control V Ci sarà una parte Magari di reset Dove io riporto Le condizioni iniziali Quindi Lo chiamiamo direttamente Reset E vi faccio Lo liberiamo Cosa avrà ancora Questo form Di importante Beh sicuramente Avrà un list box Con la lista dei film Ok List box Con la lista Dei film E lo vado a mettere Ad esempio Qua E avrà bisogno Per questo Magari ci può aiutare Il La parte di ricerca Avremo ad esempio Un group box Quindi mi vado a copiare Ad esempio Tutto questo group box Control C Vado su visualizza E mi vado a incollare Control V Tutto il mio Group box Perché Praticamente Le stesse cose Devo farle anche qua Nel senso che Io sì che dovrò Visualizzare Qua Magari Poi lo riordino un po' Cosa succede Che io faccio La ricerca Per tutti i film Ecco qua Che comparirà Tutto l'elenco di film Ne seleziono uno Voglio le caratteristiche Poi non avrò Nessuna azione Probabilmente da fare Quindi i pulsanti Qua sotto Li posso anche eliminare Diciamo che adesso Sono un po' Un po' stretto Con quello che ho scritto Allora portiamo Qui su Ok Questo magari Lo dispongo qua Poi ancora lo sistemo E qua dobbiamo Via Elimina Via noleggia Via restituisci Questa è solo Un'informativa Di quello che io ho Disponibile Praticamente Nella Nella mia Biblioteca Quindi In questo caso Vado a rimpicciolire Un attimo Il gruppo box Che mi interessa Che vada così Queste sono informazioni Utili Bene Me le posso affiancare Praticamente A list box Li posso fare Anche di dimensioni Ok Detto questo Prima di iniziare La lezione 4 Io vado a cambiare Praticamente i nomi Tutto a questo Di questa interfaccia E dopodiché Andiamo a A fare i controlli I comandi Legati appunto A questo nuovo form A questa nuova tab page Che è la tab page Di visualizzare Alla prossima Allora Ciao 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 ciao